buongiorno allora io sto scendendo a fare il mio corso unghia oggi ho preso coraggio e ho provato a buttarmi un po di stucco in faccia tanto per non sembrare un cadavere ma penso di non esserci riuscita comunque e niente oggi impareremo a costruire l'unghia con la cartina l'altra volta abbiamo fatto la tips e oggi facciamo la cartina e vedremo come va ho lasciato moroso da solo a casa a fare il cancello per i cani vediamo se quando torno a casa è riuscito a fare qualcosa oppure no e niente andiamo giù a vedere come va oggi ci saranno tante cosine nuove da imparare una bella giornata fortunatamente peccato che noi dove facciamo il corso praticamente siamo in cantina pazienza si può avere tutto dalla vita no però sono presa bene non vedo l'ora di essere giù di darmi da fare ho mandato le foto della prima costruzione che ho fatto sul mio mignolo aveva azzeccato la curva c avevo quasi azzeccati paralleli purtroppo l'apice no ma lì penso che sia colpa un po mia e un po dei gel quindi boh vedremo o magari mi è sfuggito qualcosina e quindi è così non ci posso fare niente e ora adesso andrò a bermi un buon caffè farmi la scorta di acqua per non seccare come le piante e poi in teoria oggi alla fine della dedizione dovrebbero darci la testatino si spera e niente e poi a maggio andrò a fare il corso advance e vi aggiornerò più tardi su come è andata io spero di riuscire a recuperare il wifi dell'hotel perché ho visto che c'è ma il wifi ma non ho trovato la password se trovo la password mentre faccio il corso vi carico i video ciao buona giornata a tutti